Disagi nella notte sulla Mingardina a Marina di Camerota, intorno alle due un camion si è ribaltato finendo ai margini della carreggiata. Per ragioni da accertare l'autista ha perso il controllo del mezzo ed ha sbandato. A seguito della caduta è finita fuori tutta l'attrezzatura che stava trasportando, il service audio e luci utilizzato per il concerto del cantautore napoletano Andrea Sannino. Il camion infatti stava facendo rientro da Camerota dove il neomelodico aveva tenuto il suo spettacolo in onore di San Vincenzo Ferreri. Un incidente che non ha causato feriti, illeso anche l'autista. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione guidati dal comandante Francesco Carelli per gli accertamenti e il controllo del traffico che ha subito ralentamenti durante le operazioni di rimozione dalla carreggiata del camion e delle attrezzature. Per liberare la strada è stato necessario l'utilizzo di una gru.